Buonasera, sono Leonardo Lidi, il regista del progetto Chekhov. Quest'anno arriviamo alla terza tappa, l'ultima, Il giardino dei ciliegi, con la traduzione di Fausto Malcovati e la splendida compagnia che avete già conosciuto, sia nel Gabbiano che nello Zeovania. Quest'anno ci ritroviamo tutti insieme per affrontare quest'ultimo capitolo della trilogia, che è anche l'ultimo testo scritto da Chekhov, quindi in qualche modo l'eredità che ci ha lasciato. E avrete la possibilità di vivere tutta la maratona, quindi Gabbiano, Zeovania, Il giardino dei ciliegi, tutti insieme. Sarà un viaggio bellissimo per noi, spero anche per voi, e quindi vi aspettiamo per Il giardino dei ciliegi e per l'intera maratona del progetto Chekhov. Grazie al Teatro Stabile dell'Umbria e grazie al suo pubblico.